Con Ian Aston alla fine di questa partita è andata male per voi, grosse prove di entrambi i portieri, ma a voi forse vi manca qualcosina davanti. No, per noi la partita di ieri sera ci ha costato tanta energia, però i ragazzi hanno lavorato, hanno lottato, poi non ho ricevuto la paga che deve essere stasera, hanno annullato un gol, che era un gol, per me a quel livello un sbaglio così è strano, è proprio strano. È stata forse la cosa che ha un po' cambiato il verso, perché segnare praticamente a pochissimi secondi dalla fine del secondo o terzo poteva cambiare il volto anche dal finale della partita. Questo è chiaro, penso che è successo, per forza dobbiamo accettare quella situazione, però per me è ok da professionista e non deve succedere. Lausanne era la squadra con meno gol realizzati quest'anno, però prendete forse qualche gol di troppo in riferimento alle scorse stagioni dove veramente eravate una fortezza dietro. Per noi è lo stesso quest'anno, non penso che c'è niente di cambiato, si gioca bene in difesa, sì è chiaro che non siamo fortunati all'attacco, però il livello è lì, i ragazzi lavorano e poi alla fine è così. Che effetto ti fa vedere il Lugano ultimo in classifica? Noi guardiamo la nostra squadra, basta. Ti ringraziamo Jan Aston e... Grazie.